Don Francesco, che Pasqua sarà questa per la Diocesi di Pescara, per la città di Pescara, ma per tutti i cristiani, i cattolici, i credenti, ma anche per chi non lo è? Sarà una Pasqua veramente di resurrezione, perché abbiamo bisogno proprio di aprirci a Gesù Cristo, che è entrato nella sofferenza, nella morte, è chiamato l'uomo dei dolori, per amore, e ha vinto la morte, ci dà la speranza, la certezza, che se noi ci riapriamo a Dio in Gesù Cristo, ecco, riscopriamo la fraternità universale. Oggi c'è tanto bisogno, abbiamo visto la guerra in Ucraina, ma tante guerre, come dice il Papa, la terza guerra mondiale a pezzetti del mondo, invece riscopriamo che Dio ci ha tanto amati in Gesù Cristo, che ci ha fatti scoprire che ci ama e siamo fratelli tra di noi, allora mettiamo insieme non le forze per farci male, per distruggirci, ma per unirci, per costruire pace e fraternità. E anche insieme, questa pandemia, ci fa capire che si è diffusa in tutto il mondo, allora c'è bisogno di questa collaborazione, proprio che è da Dio, dice amatevi, aiutatevi, questo è il mio comandamento. Ci dobbiamo aprire alla fede per proprio sperimentare che l'uomo senza il Signore non capisce perché vive, come vivere. Allora, aprendoci a Dio, noi riscopriamo che siamo amati dal Signore, che siamo tutti fratelli e che anche la natura, che donna di Dio ha rispettato, infatti in questi anni abbiamo fatto, scusate, macelli. L'augurio che l'abbate della cattedrale di San Cetteo di Pescara fa a tutti i parrocchiani, a tutti gli appartenenti alla diocesi di Pescara Penne? Ecco, l'augurio è che, tra virgolette, arrendiamoci all'amore di Dio, perché Lui ci ha amato per prima e Lui ci ama per prima. Se noi ci apriamo a quest'amore è fatta la cosa, si cambia la tonalità tra di noi, non più l'uno contro l'altro, l'uno al di sopra dell'altro, ma l'uno a fianco all'altro. Allora le gioie condivise aumentano, i dolori si portano meglio. Ed è Pasqua.